ottavo video sono veramente esaurito ma voi non avete idea di quanto io sia esaurito ho completato il video ripartiamo intanto qua perché siamo sempre più ciao ci siamo già visti buon anno troppo xbox no non ci gioco mai bye bye io ho just dance just dance mi piace mi piace sing starci giochi mi ha cambiato benissimo significa che sono molto apprezzato adesso andiamo a caricare il quarto video nel frattempo oddio questo cos'è questo concerto selezioniamo il file che è il numero 4 giusto carichiamo il 4 e nominiamolo scusate nei video viene fuori che sto caricando quelli precedenti ma è giusto questo cos'è il quarto io sono a fare l'ottavo il quarto video della mia esperienza che è un'esperienza veramente cattiva non ve la consiglio ok poi per italia vabbè facciamo direttamente tra trulletto e pronto continuiamo qui english italian english italian ciao joker come va niente tutto posto ciao bello ciao brut no joker mi pensavo fosse andato io joker cosa ridete cosa ridete cosa ridete mamma mia sette bellivoni cos'è ridere oddio pensa a te oh mamma mia ho già una visualizzazione se lo avevo appena caricato bene complimenti a parte che io gli scritti ne ho pochi ne ho 46 ne ho 46 però riguardava tutt'altro argomento però comunque le visualizzazioni sono 18.000 quindi sono abbastanza contento l'argomento diciamo che riguarda la musica infatti se sto facendo chat roulette è un po' strano che io stia facendo qualcosa così da nerd ma oggi ho voluto spaziare e fare questa cosa che che boh mi fa passare il tempo chi chi è questo ma quanti anni c'ha c'ha 60 anni c'ha ma ciao ai 70 anni 100 100 100 sto facendo esercizio fisico facebook andiamo su facebook che ho impazzisco a fare su giù su facebook boh perfetto posso già uscire tanana tanana táá diciamo che se io non guardo e non c'hanno notifiche esco subito cadito e se da mattina mi sveglio e vedo tre messaggi magari quattro notifiche solo ci sono anche geni minuti no? Però è già troppo Capito? È già troppo C'è la gente che quando mi vede incazzato Cambia giù Oddio chi sei tu? Non sai quello lì che faceva Il playboy Tra virgolette il playboy Non mi ricordo il nome scusate Cerco ciccio gamer Non sono io Perché qui è anche un posto per incontri E' peggio ancora di hubbo Hubbo è già una cosa Un po' esagerata Location Italy Ma aspetta ma Preferenza Italia Chiaro Cosa abbiamo messo? Stati Uniti? Io devo cercare persone francesi? No Negli Stati Uniti persone francesi Beh si vede che sono le 10 e mezza Io e tutto il giorno che sono qua E non era mai capitato in tutta la mia vita Che non uscissi di casa Ma oggi è l'1 gennaio Quindi posso anche permettermi di rimanere a casa Come questo costui che vediamo adesso Che si sta facendo chissà che cosa E per favore togli quella bandiera lì Ha capito il mio messaggio Cosa sta facendo? Ciao niente Stavo facendo yoga E' sempre il solito messaggio Il trucco è insufficiente Se fin quando non ricarichi questo Non va Ciao ma aspetta Ciao Ma sei Filippo Ma sei Filippo Ma sei Filippo Ma che le grazie con me Oh che cazzo vuoi? Sto scherzando ragazzi Ciao Ciao Siete siciliani? No Siete siciliani? Niente Scusate Ciao 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 Tutto bene ragazzi? Siete Perfetto Come? Perfetto Ciao Non mi capisco So se parlo una lingua straniera Ma io non credo di parlare una lingua straniera Con tutto il bene che voglio a queste persone Che non ne voglio Però Esagerato dire che io voglio bene a queste persone Uno Però In ogni caso Sto ancora digerendo le cose di una settimana fa Non so se Non ha senso Non ha senso Però potrebbe averlo in futuro Chi lo sa Ciao 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 Io sono La tua vita E ti voglio salvare Dalla morte Ciao Stai bene? Tutto bene? Grande No ma una persona che sorride Significa che Che la fabbrica del sorriso Non ha tolto il sorriso ai bambini Ciao Niente Per fortuna io il microfono funzionante ce l'ho Perché direi da Cristiano Un microfono Un microfono Test 13 perché il 2014 fa cagare Che senso ha scrivere una cosa del genere Quando il 2014 in teoria è meglio Ciao ragazzi Perché siete Sono al ristorante E si portano dietro il pc Sì Sì vabbè stavo scherzando È chiaro che non c'è un ristorante Però saranno lì da Da ora Voglio persone fisiche Voglio persone fisiche Però persone che appena li guardi Ti dici Vabbè possono essere simpatiche Perché se sono persone odiose Lo capisci subito Ciao Salutate Un bel sorriso Niente Nessun sorriso Niente Zero Ah siete ancora qui Che bello Finalmente Tutto bene? Ciao Ciao Bene dai Sto facendo un video su youtube E quindi ci siete anche voi No No cosa Eh no cosa Ormai ci siete Non è che potete uscire Boh dai ci vediamo Ciao 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 Niente Per fortuna qualcuno che ha il microfono c'è Poi è bello che io mi sento il ritorno Di che ha il microfono E parlo Mi sento il ritorno che mi arriva E capisco che loro mi stanno sentendo Alcuni mi dicono No non ti sento Ma è chiaro perché non hanno il microfono Queste sono cose Cioè voi umani Voi persone normali Voi persone che andate a scuola Che lavorate Non potete capire Ciao Niente questo qui non la guarda Era Edoardo Bennato questo E appena mi ha visto Ho detto no Lui non è famoso Lui ha Meno iscritti di me E poi lui canta Notte Di mezza estate Tempeste Improvvisate Nel girone Di innamorare a me Ma mi ricordo Tutte le canzoni di Bennato Mi ha tolto Visto Visto Ciao Ciao Obama Come va Niente c'era Obama Vabbè era Obama con gli occhiali Perché poverino ha perso la vista Con tutte le cose che fa a casa E non voglio nemmeno nominarle Perché Sinceramente Non sono cose Che possono Accettare tutti Oppure Accettare tutti Ok qui siamo Numero 4 Cosa cosa ti petti Intanto se hai gli occhiali Hai gli occhiali Io mi posso pettinare Perché io Ho i capelli da Elvis Io posso fare queste cose Tu no Tu non puoi farle Non puoi farle Chi che è questo? Oddio Con le gambe aperte In webcam Ma pensa a te Che gente Che gente che esiste al mondo Quanto vorrei avere qualcuno qui vicino a me Con cui picchiarmi nell'attesa Ciao Niente Ha sentito che sono un violento Che non sono Ha sentito picchiarmi Allora ha cambiato Ma questo è bello della diretta Ragazzi miei Sono 41% ragazzi 41% Del numero 4 Noi stiamo registrando Il numero 8 Cioè In un giorno Poi Vabbè che non lo farò più per tutta la vita Ma forse Ci penserò Perché Passare il tempo così Quando non sai che fare Vai sul chat Ruletta Ti fai i video E metti su youtube Certo domani Uscirò Di sera Però fino al pomeriggio Potrai tornarci Potrai pensare di tornarti Tu che guardi senza sapere Guardi No Ho schippato la ragazza Mi spiace È che vedevo tutto nero E dicevo Quando c'è il buco nero Io schippo Ciao ragazzi Tutto posto Mi sentite? Io non sento il ritorno Quindi non Scriviamola Cioè voi parlate francese Mi sentite? Buon anno Buon anno Ho scritto buon anno Perfetto Voglio dirvi una cosa Che sarete su youtube Sarete su youtube Yes Sarete su youtube Eh vabbè niente Un video Questo qui L'ottavo video Oggi ho fatto random E niente Volevo solo dirvelo Comunque auguri Buon anno Passatevela bene Non mi guardate più Ciao ragazzi Ma sì perché poi Rimangono stupiti Poverini No Io chiaro Ciao Niente Era lì tutta messa Un po' così Come dire Perché guardano Guardano i miei capelli Stanno tre ore A guardare i miei capelli No no Voi no Vi ho già visto prima Vi state antipatici Scusate ma Io le persone antipatiche Non mi piacciono Io preferisco persone Che ci parli Dopo tre secondi Già già Ti innamori Capito No vabbè Cioè in tal caso In tal senso Nel senso che Ti innamori della persona Non magari a livello A livello di D'amore vero Però a livello d'amore Intendo amicizia Capito Ciao 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 Led Zeppelin Deep Purple Pink Floyd Nirvana Soa Disturbi Lucio Battisti Grandissimo Ascolti buona musica Stavo parlando tra me e me Perché sto facendo un video su YouTube In cui apparirai anche tu E quindi volevo parlare Niente Allora ti auguro buon anno Passatela bene Non è colpa mia Canale Te lo scrivo subito Aspetta Incolla Eccolo qua No non viene fuori Scrivi così Questo qua Ciao Eh ma il link Perché io ho provato a mandare il link Però non me lo manda Ci ho provato Delle volte lo fa Vediamo Niente Non lo fa Non lo manda Tu scrivi così Sulla ricerca Dovrebbe venirti subito fuori Ok Aspetto A posto? Tanto qui devo vedere le visualizzazioni Non lo trovi Impossibile Fai che scrivere Ti scrivo Distaccato il link Te lo scrivo distaccato Se no non va E allora www.youtube.com Poi fai Slash E poi scrivi Questo qua Che ti ho detto Questo qua Lo scrivi dopo www.youtube.com E viene il mio canale Lo scrivi sopra Lo scrivi sopra Posto Ok Allora Buon anno Ci vediamo Sarà l'ottavo video Questo Quindi se vedi Ho raggiunto il 3 Quindi pian piano Ciao Ci vediamo lì Ciao Benissimo Io mi ho conosciuto Un'altra bella persona Che si è iscritta Al mio canale E questa è la cosa Più bella Del mondo Ragazzi È stoppato A causa Della connessione Che fa schifo Quindi riprendiamo Tra pochissimo Faccio pausa Per non perdere tempo Ok ragazzi Siamo ripresi Subito Ci siamo ripresi Abbiamo questo ragazzo Ciao Saluta Niente I barboni Che cercano solo Ragazze nude Oh Mamma mia Tutti uguali Pazzesco Non si può manco Trovare Una ragazza No un ragazzo Un ragazzo Che ti dica ciao Non esiste Vabbè esiste Esiste Per fortuna L'abbiamo trovato In giro Però Comunque Volevo solo dire una cosa Che questi video Sono molto Ciao Ciao Tutto bene? Mi sentite? Mi sentite? Mi senti? Non mi senti? Per scrivere Sento delle voci Ma non Aspetta Non mi senti? Sì? Bene Auguri di buon anno E finirete su YouTube Se te ferme Lì Non si sente bene Non si sente bene E Finite su YouTube Ve lo dico Ve lo dico Video numero 8 Ok Conoscete YouTube? Perché? Sì Ah meno male Ok Allora perfetto Vi vedrà molta gente Ok Aspetta Giochiamo a Triste Dai No no Ma perché? Così Perché non avevo niente da fare Non avevo niente da fare Capito? Non si sente tanto bene Vabbè Vabbè Boh dai ragazzi Ci vediamo Io vado Se no qui Il video va troppo avanti Ciao Bene Complimenti Ma meno l'hanno capito Che finiranno su YouTube Speriamo Perché se non l'hanno capito Non è che me ne frega Allora ci vanno In ogni caso E poi Si vedano o no A me personalmente Preferisco che non lo vedano Però Se c'è qualcuno A cui fa piacere A me va bene Meno male che c'è Un po' di gente carina In questo mondo Eh stiamo caricando i video Sì stiamo caricando i video Sono le 22 56 minuti Io sono sempre qui Accanto a me Pronto ad assistere A questo magnifico spettacolo Beppe Bergomi Molto bene Non so cosa senti ragazzi Però E l'euforia L'euforia di Di una giornata noiosa Non ha senso neanche questo Ma voi Mi capirete Sì per fortuna Il quarto video L'abbiamo No no I nerd pure qui No Ok Già c'è Cristiano E Cristiano Che sono due nerd Sfigatati Ed è già troppo Troppo E non va bene It's ok It's alright Che cavolo fai Ok Perfetto Volevo ancora ricordare A tutti Che questo è il mio canale Che se volete iscrivervi È perfetto Sono contento Tu guardami Tu guardami Oh brother Brother Boh Questo qui si è perso Mi sa che si è perso la testa ovunque Ciao Niente Questo qui Pensavo che fossi un Sì Sono padre Secondo Oh dio Hey sister Dan Ancora Ci sono solo ragazze nude Ragazzi nudi Magli ovunque Corpo ovunque Facce No Non ne parliamo Oh finalmente Una ragazza con una faccia Che però ha schippato Questo qui è un paesaggio Non so che senso abbia Sono tutti pazzi qui, te lo dico io Vabbè, per fortuna Ciao Sembrava Don Cristiano Ciao, oddio, ma perché? Mamma mia Perché fa queste cose? Oh, mamma mia Ma per favore Godetevi la vita Che scheletri, che scheletri Perché? Ditemi perché Ciao ragazzi No, niente Ciao ragazze, tutto bene? Niente Soprattutto tutti, proprio malati di mente Tutti, tutti Questa c'è la foto, c'è Ma perché? Mi spiego, mi chiedo perché Uno deve avere la foto Vabbè, lasciamo perdere In ogni caso È una foto Quindi Non si muove E non ha senso Sono le 22, 59 minuti No, dai Ma sto scherzando Perché io dico Se siete qui Fatevi vedere No, è quello Comunque Auguri Buon anno E Finirai su YouTube Anche con la foto Però vabbè Le porte USB Le porte USB Cosa c'entrano? Anche a te Ok Allora auguri Tanti auguri Non vanno Cosa? Ah, le porte USB Per la webcam Sai cosa devi fare? Devi Prendere il PC E buttarlo fuori dalla finestra Così come viene Anzi fuori dalla porta Eh certo È la soluzione quella Buttarlo Vabbè Comunque Sì, sì Dimmi Sì, sì, sì Qualunque domanda va bene Dimmi, dimmi Veneto No, no, no Piemonte 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 Veneto Non lo conosco Perché non ci sono mai stato Però Dicono che è bello Anche se il mare non c'è Però Preferisco la Toscana Vabbè dai Ci vediamo, eh Buon anno E E nulla A presto Ok Poi abbiamo finito di caricare Il video Perfetto Quindi possiamo caricare Il prossimo video Non ridere Non sospirare Perfavore Perché Come vedi Sono un ragazzo Molto sensibile Che di queste cose Non vuole Non vuole saperne Capito Sto parlando così Perché io sono Spontaneo Ma tanto spontaneo Da dirvi proprio Ciao ragazzi Perfavore Ok Questo qui è il video numero 7 Intitoliamolo Numero 7 E Adesso carichiamo Il numero 4 No 5 E carichiamo Il 5 Adesso Eccolo qua Ci sto confondendo Tutti sti video Sti MP4 Aspettate Faccio pausa Nel momento in cui Se no Perdiamo tempo Siamo tornati Siamo tornati Looking for a partner Ok Ultimi 5 minuti Di questo Ottavo video Mentre abbiamo cominciato A caricare Il numero 5 Chi stai tu Perché anche tu hai la foto Adesso mi dici Perché tu hai la foto Non mi va sta cosa Tutti che hanno la foto Voglio parlare con una persona Da vedere Con questo sto scherzando Volevo solo dire che Finirai su youtube E quindi su youtube Verrà fuori solo sta foto Che è Non so È un po' brutta Spito È meglio una foto Meglio un video Meglio una persona seria Spito Buon anno Ciao Mi sto stufando ragazzi Mi sto stufando Troppe foto Non vanno bene È un obrobio È proprio un obrobio Oh finalmente qualcuno Che si vede Ciao 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 Come stai? Ben? Ben Bravi 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 Complimenti ragazzi Complimenti No no che spegni la musica Ma che? Ma che? Ma che? Ok ragazzi Kebab Sì 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 Kebab 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 con patatine E piccante Mi sono rotto ragazzi Ve lo posso dire una cosa Finirete Su Youtube Tube Ciao ragazzi Buon anno Tu perché hai quella roba grigia lì? Adesso tu mi spieghi Quanto siamo? Cioè mi stanno facendo fare Ginnastica questi Ginnastica Ginnastica artistica Perché questa è arte ragazzi È arte Questa è arte Non dirmi di no Tu schermo nero Dimmi Perché? Che stronzo Non sono un stronzo Tanto finirei su Youtube Chiunque tu sia Peccato che non ti si veda la faccia Perché Avrei voluto Che vedessero Come sei Comunque Sì 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 Li faccio No guarda Lo sto dicendo così Perché Perché non so cosa dire Ma secondo te è ovvio Mamma mia Gente che si nasconde Dietro un pc Vabbè No vabbè Sto scherzando Buon anno Sì mi chiamo Ma questo mi chiamo Vabbè non la sento Dai 12% Bene Ciao Schippo Ci vediamo Perché non mi va di parlare con un computer È come parlare con un clever bot Ci ho provato una volta Non è Non è proprio entusiasmante Ecco Parlarci È come parlare con Con un muro Quindi con mia mamma No dai Sto scherzando ragazzi Sto scherzando Questo fumo Quindi Lo togliamo tutto Io sono contro il fumo Contro l'alcol Contro la malavita Ciao bello Ti voglio bene Auguri di buon anno E per favore Non ascoltare il rap Perché è brutto il rap Ok Bravo Che mi è schifato Se no devo farlo io Non lo voglio Andiamo a controllare qui Se qualcuno l'ha visto Va al numero 4 Perché È come la vita Io Il mio canale Si occupa di tutt'altro Di tutt'altro Rispetto A quello che sto facendo adesso Quindi non ha Non ha senso Se qualcuno si disiscriverà Dal mio canale Sono contento Ok Sono contento D'altro non è che ne ho mille Ne ho 46 C'è proprio una questione di Così Però intanto Le top of short Qui stanno salendo Quindi sono molto contento Di ciò Andiamo a vedere Andiamo a vedere Invece il mio canale Complimenti Ciao Ciao Complimenti Per niente Ho 48 Cioè sono salito Di due Che sono praticamente Quelli che ho incontrato Se si sono fatti vedere Dovrebbero essere Niente Non ci sono Significa che È molto strano È molto strano Oddio C'è un personaggio Dei cartoni Ma non ti vergogni Di mettere Sti personaggi Io te lo dico Io te lo dico Fa finiremo Andare tutti Andare tutti A casa di Berlusconi A fare A fare I servia Perché questa cosa Non si può Cioè si vede Che sei un nerd Proprio E poi io li odio Un nerd Quindi Sono qui Proprio per questo Sto scherzando Dai Sto facendo un video No ma lo so Lo so che non sei un nerd Comunque ti volevo Fare gli auguri Di buon anno E niente Sono qui A fare casino Perché non so Che cazzo fai Ok Auguri dai Ci vediamo Quanto siamo qua? Siamo a 30 Quindi abbiamo concluso Anche questo video Ciao a tutti